In ogni partita, con le sue giocate e con quella grinta che non faceva mancare mai, la stessa grinta che poi nel 9 luglio 2006 a Pernino lo portò sul tetto del mondo, lui è Mauro Clare Madanesi! Grandissimi, grandissimi con noi, Simone, Mauro, due leggende piantonele, grazie, grazie per essere con noi questa sera. Grazie a tutti.